Quanto ti sei divertito? Tanto, tanto perché poi sono arrivati successi internazionali, come riederai Cuore Matto, specialmente Cuore Matto, che mi ha dato l'opportunità di girare il mondo, perché tu sai che io ho trovato gli italiani dappertutto, anche al Coco Palmas Hotel di Kauai, nelle Hawaii, andai in vacanza con Giuliana, con mia moglie, e appena siamo arrivati alla recensio c'era un signore che mi ha guardato, ha detto, ma voi siete lì trettoni. E tu come sei nella vita privata? Beh, è abbastanza normale, i miei amici sono rimasti sempre quelli di sempre, quando ero ragazzo, ormai ho avuto un carattere, diciamo, da vivo, sono sempre stato un ragazzo normale. Con l'amore? Diciamo che in quegli anni d'oro, dal 60 al 70, ricevivo dalle 150 alle 200 lettere al giorno.